Salvatore Scaluto, cosa rappresenta la festa di San Pietro per il quartiere della Marina? Tutto rappresenta, la festa di San Pietro è una festa tradizionale, è una festa centanaria quest'anno, per la Marina, ma non solo per la Marina, credo anche per la città, perché poi va a finire che... gente ne scende, scendono tutti per curiosità, per vedere, le gioste, rappresenta tutto. Io credo che dopo il carnevale, poi cosa abbiamo qua? La festa di San Pietro dopo il carnevale, secondo me, è la seconda festa di San Pietro. Quanto è stato difficile rientrare agli schemi di sicurezza e avete dovuto rinunciare a qualcosa? Ma l'importante è che la sicurezza è una cosa importante, perché se succede qualcosa poi chi organizza e si sa come va a finire. La sicurezza ci sono due bagnine direttamente a mare, due sub, poi c'è l'aiuto pure a terra, insomma con la sicurezza credo che siamo a posto. Grazie. 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 Grazie.